Ciao a tutti, eccoci qua col video Prediction della Coppa America 2024 me l'avete chiesto, eccomi qua a portarlo, visto il successo che ha avuto il video di Prediction Euro 2024, andiamo con la Coppa America 2024 ci sarà da ridere, sicuramente ne vedremo delle belle anche voi potete farlo, il sito ve lo lascerò in descrizione per appunto andare a fare anche voi la vostra simulazione poi me la portate nei commenti che sono curioso di vedere anche le vostre di Prediction, come ve l'ho detto di Euro 2024, sono veramente curioso di vedere la vostra e andiamo appunto con ordine, non prima di avervi salutato invitate a iscrivervi, attivare la campagna, metti mi piace, commentare come sempre, questo è un canale che parla di calcio a 360 gradi serie A, serie B, calciomercato nazionale, europee, bla 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 quindi Coppa Europea eccetera, quindi siete i benvenuti se siete nuovi presentatevi, che ho piacere di conoscervi tutti quanti allora andiamo, andiamo appunto a vedere questa Coppa America cosa ci riserva con appunto la partita di inaugurare che ci sarà questa notte ed eccoci qua, qui praticamente è un po' diverso da quella degli europei perché ci fa scegliere la classifica, l'ordine della classifica quindi non ti fa fare doppiamente quello che facevamo di là che la selezionavi, la spostavi, ma devi selezionare, spostare direttamente quelle che sono già appunto scritte qui quindi andiamo appunto a vedere cosa succede allora direi che Argentina, Canada, Cile e Peru mi piace anche come ordine quindi non sto a spostare nulla, vedete si possono spostare il sito poi dopo ve lo dirò appunto è predict.footmob.com scusate, hitcopamerica vabbè dopo comunque ve lo giro nella descrizione senza problemi quindi gruppo A secondo me è questo qui Argentina, Canada, Cile e Peru nel gruppo B vedo vedo la Giamaica seconda ci può stare magari in Messico Giamaica, Ecuador e Venezuela così, una sorpresa, un po' esotica questa cosa qui vediamo appunto come va poi il girone C questo è come l'avevo già fatte prima no, meno male allora il girone C invece vedo Stati Uniti primi attenzione Uruguay secondo Panama terzo e Bolivia quarto pensate un po' qui invece direi che invertiamo solo Paraguay e Costa Rica Brasile, Colombia prima e seconda Paraguay terzo e Costa Rica quarta secondo me ci siamo i gironi sono questi che Argentina, Canada, Cile, Peru la sorpresa Canada, la sorpresa Giamaica così facciamo qualcosa di esotico di strano ok, quindi questi li abbiamo fatti tutti poi giù in basso c'è successiva e andiamo avanti appunto con la fase poi successiva dei gironi dopo ci sono appunto i quarti e le semifinali quindi quarti che vedono Argentina, Giamaica, Messico, Canada Stati Uniti, Colombia e Brasile, Uruguay ok, andiamo appunto a vedere io qui direi che passa l'Argentina poi passa il Canada ragazzi assurdo Colombia nonostante gli Stati Uniti per me possono essere una sorpresa e Brasile queste per me sono le quattro le quattro che passano mi sento di dire così successiva e quindi semifinale dove Argentina e Canada si sfideranno secondo me e vincerà l'Argentina e Colombia Brasile secondo me c'ho un po' di decisione tra Colombia e Brasile su chi può passare proverei Brasile vai finale Argentina-Brasile ma attenzione alla Colombia ragazzi e io ve lo ripeto attenzione alla Colombia poi c'è la finale terzo e quarto posto che sarà Canada-Colombia appunto secondo me e Argentina-Brasile appunto la finale invece del match della competizione quindi Canada-Colombia secondo me vince la Colombia quindi Colombia terza e attenzione attenzione Argentina-Brasile vedo il Brasile campione della Coppa America adesso qua chiede i dati quindi lasciamo stare Argentina e quindi ragazzi io ve l'ho detta il Brasile vince la Colombia arriva terza questa secondo me è la mia prediction la mia prediction vedremo appunto quante ne sbaglierò sono curiosissimo di vedere la vostra ragazzi sono curiosissimo quindi fatela anche voi ripeto vi lascerò nella descrizione del video il link per poterla fare perché è un link un po' strano da dire quindi vi lascio direttamente il link così cliccate lì e la fate anche voi mi raccomando giocate tutto gratis è solo per divertirci è uscito anche il video dei pronostici degli europei della seconda giornata potete tranquillamente giocarli anche se ci sono già giocate delle partite voi giocate quelle che rimangono è uscita anche la prediction degli europei anche quella fate ancora in tempo a giocarla vi lascerò tutto qua in fondo in descrizione ci vediamo più tardi col video dell'Italia vi abbraccio di cuore dai giocate anche voi che è una cosa diversa dal solito e giochiamo un po' anche la Coppa America non credo che riuscirò a portare quasi nulla della Coppa America visto gli orari in cui giocano i miei turni però chissà fatemi sapere se siete interessati magari qualche short o qualcosa qualche giorno lo posso anche portare ci vediamo presto il vostro Monta ciao a più tanti